L'impressione del PD sarà espressa anche oggi, naturalmente abbiamo la riunione della direzione, sarà la stessa segretaria. L'impressione che si ha è che il governo faccia male a cantare vittoria, ma io lo dico a cuore a marido perché il problema dei migranti, il governo Meloni lo ha affrontato male, lo ha affrontato a testa bassa, ha dato delle risposte che non tengono conto del dramma di queste persone e soprattutto non tengono conto del fatto che l'Italia non può flertare con paesi sovranisti, pensiamo alla Polonia, all'Ungheria, che hanno votato contro questa ipotesi di accordo. In secondo luogo il governo non può cantare vittoria perché hanno tolto semplicemente per raggiungere un compromesso che poi dovrà essere portato al baglio del Consiglio d'Europa, della Commissione, è un protocollo, diciamo così, e ha tolto il tema delle ONG insieme alla Germania perché il tema rimane, rimangono in vigore purtroppo anche i provvedimenti del governo che colpiscono le ONG. L'Italia appare ancora all'estero come un paese che non sa cosa sia la solidarietà. Infine un altro per me appunto importante, nessuno ha la bacchetta in mano per risolvere questo dramma epocale, nessuno può pensare tanto meno l'Italia che è affacciata sul Mediterraneo, di affrontare da solo questo drammatico problema. Però allora togliamolo di mezzo, ma sia la Meloni che Salvini non lo fanno, togliamolo di mezzo dalle paure, togliamolo di mezzo dalle propagande partitiche e facciamo davvero un appello al paese, all'Europa per affrontare insieme questo dramma, togliendolo dalle campagne elettorali che la destra ha sempre caratterizzato per questa rincorsa alle paure. Ecco, il tema migranti richiede ben alto respiro, ben alto impegno.